vi auguro una buona giornata a partire con la rassegna stampa di questa mattina grazie per il vostro ascolto oggi una bella giornata il sole ha esorto con una bella alba questa mattina a sufano il cielo è quasi sereno ma procediamo con ordine attraverso l'almanacco del giorno e vediamo che oggi si festeggia san giovanni nepo muceno un santo boemo studiò a praga si fece sacerdote e fu predicatore alla corte di re venceslao questo è san giovanni poi passiamo alle previsioni del tempo e vediamo che il cielo si è schiarito dopo il piccolo temporale dell'altro giorno acqua benedetta quella perché veramente la terra ha bisogno di acqua la terra è arza anche d'inverno c'è stata una grande siccità nel nostro territorio e quindi era un'acqua che ci voleva soprattutto per le campagne il grano sta crescendo bene oggi tempo stabile è in prevalenza solleggiato in tutta la regione temperature massime comprese tra 16 e 19 gradi la minima si è attestata a 7 l'escursione è piuttosto ampia 20 deboli sulle coste da nord nell'entroterra da sud sud ovest il mare è leggermente mosso il sole è sorto alle 6 e 10 e tramonterà alle 18 e 19 questo un po le previsioni del tempo e con questa inizio di primavera ormai siamo proprio alle porte le rondine ancora devono venire però insomma l'equinozio sta arrivando e quindi vediamo subito il corriere adriatico sulla pagina di fano oggi con l'apertura dedicata a un'istituzione culturale che langue ed è il museo della flaminia flaminia museo nell'incuria dispositivi digitali fuori uso doveva essere un museo all'avanguardia un museo dotato di tanti strumenti digitali video occhiali che davano una realtà virtuale mappe da così da digitare con degli schermi che rispondevano poi a un mondo virtuale in realtà a questo ormai è fuori uso e desueto e quindi deve essere rinnovato c'è un input a questo proposito tramite una interpellanza da parte dei fratelli d'italia giampaoli e tarsi invitano l'amministrazione comunale a provvedere a così a ripromuovere questa istituzione siamo nei pressi siamo vicini a pasqua quindi i turisti cominceranno ad arrivare quindi questo è un museo che dà l'ingresso della città che dà il benvenuto perché si trova nei pressi dell'arco di augusto relazione di fine mandato di seri 30 mila euro un provvedimento che ha suscitato delle polemiche che cosa è accaduto è accaduto che il sindaco si trova ormai alla fine del suo mandato ha così ricoperto dieci anni di amministrazione e quindi non può essere rieletto il sindaco ha pensato di fare un consuntivo di tutta la sua attività amministrativa e di pubblicarlo in un fascicolo che sarà stampato in 500 copie e poi saranno stampati anche volantini volantini che verranno diffusi un po in tutta la città come si fa con il periodico edito dall'amministrazione comunale ebbene la spesa di tutto questo ammonta a 30 mila euro 20 mila per quanto riguarda il fascicolo 10 mila per quanto riguarda i volantini c'è poi un'iniziativa di carattere convegnistico che il sindaco ha organizzato per relazionare lui personalmente tutte le cose che sono state condotte a termine questo ha suscitato la reazione del movimento 5 stelle insomma che ha avanzato anche qui una iniziativa in consiglio comunale perché c'è una variazione di bilancio che imputa ai capitoli questa nuova spesa relazione di fine mandato di seri 30 mila euro il movimento 5 stelle critica la spesa per la stampa e l'evento tre ragioni per dire no ha detto questi soldi avrebbero dovuto essere utilizzati per i cittadini e non per i consumtivi secondo i 5 stelle ed ora vediamo due notizie di cronaca che riguardano fano sferrò coltellate al padre sì alla perizia psichiatrica è il caso di un 21enne fanese di cui si è reso noto il nome di battesimo tommaso ma l'iniziale del solo l'iniziale del cognome tommaso n il quale deve rispondere dell'accusa di tentato omicidio per aver sferrato nel tardo pomeriggio del 14 febbraio scorso diverse coltellate al padre adottivo di 45 anni colpendolo alla testa al culmine di un fuoribondo alterco familiare ieri il giudice di pesaro giacomo gasparini e ha dato a conferito l'incarico ad un perito psichiatrico di valutare la capacità di intendere e di volere del giovane il giovane che probabilmente in quel momento era fuori di sé per aver compiuto quello che ha compiuto e poi vediamo invece qui un altro caso quest'articolo di spalla violenza e danneggiamento patteggia un anno e due mesi è un uomo che ha fatto veramente 37 anni un moldavo che ha fatto da matti perché è andato in escandescente litiga con la madre era venuto a fanno apposta per incontrare la madre però l'incontro è stato molto molto burascoso è scoppiata una lite violenta e l'uomo ha reagito in maniera così eccezionale colpendo a calci una macchina parcheggiata in strada si tratta di una lancia y colpita con dei vasi contro il parabrezza poi aveva scavalcato un cancello per rifilare dei calci al portone e distrutto il lampeggiante del cancello stesso il lampeggiante del cancello automatico i carabinieri sono intervenuti perché i residenti richiamati da questo schiamazzo da questa intemperanza hanno chiamato subito i carabinieri i militi sono intervenuti e lo hanno trovato nascosto dietro una macchina gli hanno chiesto i documenti ma l'uomo aveva con sé solo una fotocopia di una carta d'identità che poi non gli apparteneva era di un'altra persona e quindi è stato condotto in caserma ma in caserma l'uomo ha continuato ad agitarsi in maniera inconsulta e anziché calmarsi aveva iniziato a smontare una finestra addirittura spaccando una lamiera in alluminio e con quest'arma improvvisata si era lanciato contro i carabinieri veramente ne ha fatti di tutti i colori ebbene è stato processato e alla fine ha patteggiato un anno e due mesi e poi l'articolo si conclude con pena sospesa e beh dopo tutto questo è ancora in libertà vediamo un altro articolo che riguarda Fano insorgono i residenti di via Fanella per il persistere di una strettoia che rende difficoltoso il traffico sulla strada un traffico regolato a senso unico alternato da una lanterna semaforica ma questo sta suscitando dei problemi perché sono accaduti anche degli incidenti sabato scorso un'auto è andata a cozzare contro altre due e quindi sono state tre le auto coinvolte in questo incidente e poi le lunghe file che si fermano con i motori accesi creano un problema ambientale per quanto riguarda i residenti che insomma sono vicini a questa invasione della carreggiata da parte del cantiere strada ristretta per il cantiere si rischia sempre il dramma di un incidente ma il problema persiste è stato chiesto anche un controllo dei vigili urbani perché c'è anche chi non rispetta il semaforo e passa poi magari rischia un incidente insomma la situazione non è bella via Fanella ha già dei problemi per conto suo per quanto riguarda il traffico perché è una via stretta ci sono le auto parcheggiate da una parte la via è doppio senso insomma il problema è indemico e non solo è in atto a causa di questa strettoia ma c'era anche prima e allora vediamo invece le notizie dell'entroterra passiamo a Mondolfo presenze arrivi in calo ma i dati sono sbagliati insorge l'opposizione la minoranza contro l'amministrazione comunale imputandogli di non avere così tenuto alto il tenore del turismo della costa di Marotta in parola povere ma anche di Mondolfo tre consiglieri di minoranza hanno chiesto le dimissioni dell'assessore al turismo Davide Caporelli Capo Raletti per un presento calo delle presenze degli arrivi del 2023 però reagisce a questo proposito il sindaco Barbieri il quale dice che i dati sono sbagliati perché c'è una struttura che è molto importante in quanto fa un numero rilevante di presenze che non le ha comunicate alla regione e quindi i dati sono stati pubblicati per difetto quindi non c'è questo calo che è stato rilevato dai dati regionali e vediamo anche che si continua a rilevare nel territorio la presenza di ordigni bellici e ne sono stati gettati tantissimi durante il secondo conflitto mondiale ed ora emergono tornano in superficie a Monteporzi guardate che bomba è venuta alla luce eccola qua questa nel campo una bomba inesplosa di 200 chili sganciata da un aereo statunitense nel 44 ed è stato avvertito l'esercito per renderla inoffensiva Senigallia a Senigallia si continua a discutere per quanto riguarda un annuncio dichiarato sessista da parte di un titolare di un bar che ha richiesto l'assunzione di personale però vuole delle donne e non vuole gli uomini in questo caso sono le parti si invertono ma questa volta sono gli uomini a essere penalizzati e a questo proposito interviene anche il sindaco Livetti che dice che sulla ricerca di sole donne per un bar le discriminazioni non ci appartengono c'è una legge insomma che vieta di fargli dire vogliamo maschi vogliamo femmine vogliamo questo vogliamo quest'altro insomma non si possono fare discriminazioni di genere ebbene questo per quanto riguarda il Corriere Adriatico ma abbiamo anche qualche notizia che riguarda Pesaro dove si parla ancora di quanto avvenuto a Soria la protesta dei residenti di Soria per via Caboto il Comune gioca d'anticipo a Soria la partita è chiusa la viabilità resterà così come dopo la infuocata assemblea dei residenti delle quartiere i quali hanno protestato non volevano questa variante che modificava la viabilità della zona il Comune fa un passo indietro e dice che la viabilità resterà così come lo ha detto anche l'assessore all'urbanistica Mila della Dora che viene ritratta in questa foto in via Largo Tre Marteri variante urbanistica di Largo Tre Marteri il Comune gioca la carta d'anticipo per recepire il parere dei residenti di Soria lo ha detto l'assessore della Dora che annuncia che la viabilità non sarà cambiata e i residenti hanno avuto ragione di presentare insomma le loro istanze qui invece abbiamo la rotatoria sperimentale lungo la strada del Foglia qui abbiamo una simulazione in questa fotografia qui in questo cerchio cerchio rosso la rotatoria che deve essere realizzata da domani inizieranno i lavori nell'area produttiva di Borgo Santa Maria siamo venuti per verificare il sito ci sono aspetti da approfondire ebbene la commissione di inchiesta si è mossa ancora una volta per verificare sulle bellissime colline di riceci il sito dove dovrebbe esongere la discarica ebbene il presidente Marrone abbiamo ascoltato versioni discordanti per cui dovremo approfondire la questione e vedere da che parte sta la verità e c'è anche un'inchiesta del giudice che dovrà verificare se tutto quanto è stato fatto è rientrato negli aspetti legali e poi il confartigianato invece ha parlato di intelligenza artificiale lo ha fatto al teatro Rossini l'intelligenza artificiale che già è presente nel nostro territorio e già è stata adottata dalle piccole e medie imprese focus della confartigianato al teatro Rossini sulla innovazione ma ci sono anche le cautele del fisico influencer Schettini il quale ha detto il quale ha sottolineato come sia importante che i giovani utilizzano l'intelligenza artificiale con le devute però cautele non essendo ancora in grado di quelle capacità critiche necessarie per comprendere le differenze ma al tempo stesso però l'innovazione è l'unico modo per affrontare il futuro e per l'artigianato è importante poter avere i mezzi per gestire la tecnologia che migliori e favorisca il lavoro insomma l'artigianato che è ancora nelle marche molto presente ed è una caratteristica della situazione produttiva della nostra regione non può restare indietro nelle conquiste del progresso e anche i piccoli imprenditori devono adattarsi un po' come è avvenuto a suo tempo quando è stato introdotto il web il computer e tutte le altre innovazioni telefonini e via dicendo vediamo ancora una notizia che riguarda Pesaro una notizia di cronaca scopre di essere invalida per l'Inps ma la pensione la prendeva una zia ebbene anche qui riguarda una extra riguarda una straniera è una moldava una moldava che ora vive a Pesaro che ha scoperto che la zia che lei in realtà per quanto riguarda l'Inps figurava invalida figurava autistica insomma e c'era una pensione di 1250 euro non da poco che veniva percepita dalla zia la quale si era fatta nominare come una amministratrice di sostegno e quindi questi soldi li prendeva ora tutto quanto è finito di fronte al giudice ancora vediamo la pagina di Urbino sul Corriere Adriatico prima di passare al resto del Carlino e vediamo come c'è il caso dell'omicida Andrea Marchionni Andrea Marchionni Marchionni ha ricercato online le strategie difensive dei delitti uccisa la cognata la rivelazione del perito che ha controllato computer e smartphone le ricerche su computer relative alle omicidi alle reazioni degli assassini sono state rievocate ieri nel processo che si è tenuto a Urbino una tappa in più per quanto riguarda il cammino verso la sentenza ed ora chiudiamo il Corriere Adriatico diamo un'occhiata invece al resto del Carlino dove l'articolo di apertura oggi è un articolo che rende merito al lavoro di una insegnante che è andata in pensione una insegnante che va in pensione con grande grande rammarico perché lasciare i suoi alunni fa un distacco che fa male insomma ai propri sentimenti maestra va in pensione la classe di 40 anni fa si ritrova per salutarla i primi alunni di Rossella Ciavaglia hanno festeggiato l'insegnante il ministero mi ha messo a riposo e io me ne vado piangendo ha detto c'è che è felice quando va in pensione e c'è che invece lascia un pezzo di cuore a tutti i ragazzi a cui ha insegnato ha insegnato sì a scrivere a leggere a fare di conto ha insegnato la storia la geografia ma soprattutto ha insegnato a vivere 30.000 euro pubblici per la propaganda di seri l'accusa dei 5 stelle una spesa esagerata hanno detto i tre componenti del gruppo consigliare del momento 5 stelle a Fano vuole anche i bersaglieri vuole anche la fanfara dicono i 5 stelle alla sindaco Seri insomma però alla fine dopo che uno ha lavorato per dieci anni insomma ha questo desiderio di dire tutto quello che è stato fatto poi la valutazione della spesa è una valutazione di carattere politico e veniamo anche alle elezioni vediamo a fondo pagina un articolo che riguarda Stefano Marchigiani dopo le primarie tempo scaduto per i ribaltoni e risponde così ad una espressione che ha usato il candidato del centro-sinistra Fanesi che ha detto che dopo il 7 aprile quando ci saranno le elezioni primarie se lui vencerà la prima cosa che farà sarà chiamare Marchigiani per cercare di ricucire le distanze che ci sono avute con i progressisti aggredita in auto salvata da un ex agente è avvenuta a Marotta un ispettore di polizia in pensione era a passeggio con il proprio cane quando vede all'interno di un abitacolo di un auto un ragazzo aggredire la ragazza che le sedeva accanto addirittura gli stringeva con le mani il collo a questo punto è intervenuto e ha salvato la ragazza turismo in caduta libera l'assessore si dimetta è il fatto che è avvenuto a Mondolfo ne abbiamo parlato lo chiede l'opposizione di Mondolfo alla luce di un calo di un 17,4% emerso dai dati regionali dati falsati ha detto il sindaco Barbieri in quanto appunto c'è una ditta che non avrebbe segnalato le sue presenze sarebbero 32.000 presenze ma non è cosa da poco disagi a pergola per il blackout Ruggeri di 5 Stelle interroga in consiglio regionale la consigliera ha chiesto di fare luce sulle responsabilità che ha portato al trasferimento di 32 pazienti nella notte pazienti che poi però sono ritornati all'ospedale dopo un disagio per il trasferimento verso l'ospedale di Urbino e vediamo anche le pagine di Pesaro dove anche il resto del Carlino parla di Soria Soria in fiamme il comune ricuce della Dora nessuna bretella ha negato che ci saranno variazioni tra via Genga e lungofoglia a caboto l'assessore porterà la proposta in consiglio comunale aggiungendo che la viabilità non sarà modificata però l'intento delle delibere dell'urbanistica l'intento è quello di riqualificare Largo Tre Marteri con un'azione antidegrado e questo credo che non susciti problemi ai residenti comunque la partita è ancora aperta perché secondo i residenti la variante deve essere ritirata con un atto formale il comitato civico non si placa Cipolletta rappresentante appunto del comitato in via Agostini un ingorgo quotidiano un grave rischio di incidenti permane nella zona secondo appunto e poi vediamo questa bella gara ciclistica che si è tenuta a Pesaro la provincia sprinta tutto ciclismo con la Coppie Bardali città delle bici in festa Fano Pesaro è la città della bicipolitana tante tante le corsie protette per chi va in bici e anche per chi pratica l'agonismo del ciclismo partenza dalla piazza arrivo in Viale Trieste vince il tedesco Brenner la gara ha toccato Urbino Tavuglia Gradara e Gabice Monte e quindi anche il San Bartolo Riceci quando Roma apre gli occhi e la commissione ha aperto gli occhi sul bellissimo panorama delle colline pesaresi che si nota dalla sommità di Riceci Borrelli Tiviroli ha giocato a poker è un'espressione tratta da quanto comunicato e il presidente della commissione Jacopo Marrone un magistrato sta indagando insieme a noi sull'intera vicenda vedo un bellissimo paesaggio quando è salito appunto sulla collina dopo aver visitato anche le altre discariche della provincia compreso Monte Schiantello cercheremo di chiarire tutto quello che di contraddittorio è emerso ha dichiarato e quindi la questione andrà avanti per diverso tempo e poi vediamo artigiani pionieri del nuovo diciamolo ai nostri ragazzi e quanto si è svolto al Teatro Rossini grazie alla Confartigianato che ha parlato di intelligenza artificiale e abbiamo visto un'ultima notizia ve la voglio mostrare ed è quella che riguarda ancora la collezione collezione di Elio Giuliani questa bellissima collezione di quadri del 1900 che è stata così esposta a Palazzo Bracci Pagani ora ci sarà una conferenza a Pesaro a Palazzo Gradari il 900 nella collezione di Elio Giuliani visitata da tante tante persone un pesarese che ha esposto a Fano con grande successo e con questa notizia noi terminiamo la nostra rassegna stampa dandovi appuntamento come sempre alle 7 di domani grazie per l'ascolto e a risentirci grazie a tutti Grazie a tutti.